Un brutto episodio si è registrato a San Valentino Torio. Una bomba carta è stata fatta esplodere contro la sede della Lega del Vice Premier Matteo Salvini a San Valentino Torio. L'ordigno artigianale è esploso nel tardo pomeriggio di ieri. Dei primi rilevi effettuati dai carabinieri sembrerebbe che la bomba carta fosse stata legata all'inferriata del portone in ferro. Per fortuna non ci sono feriti. In segno di solidarietà, questa sera alle ore 19, militanti e dirigenti della Lega del Serenitano si riuniranno in un presidio nei pressi della sede di San Valentino Torio.